Manca più di un mese al Natale, eppure sembra già dietro l'angolo, e la nuova amministrazione comunale per la grande festa ha scelto di vestire la città con un abito classico, luce a cascata in Piazza dei Signori e luminari stellate. Abbiamo previsto come amministrazione un Natale abbastanza classico, quindi avremo la cascata da Piazza dei Signori, che ovviamente rimane, anche perché ormai è diventata un punto di riferimento per il Natale vicentino. Avremo gli attraversamenti delle luminarie lungo tutte le vie del Centro Storico, a Stella, quindi sarà un Natale stellato. Settimane che avvolgeranno i cittadini e i turisti di una magica atmosfera natalizia, possibile grazie a un grande lavoro di sinergia. Anticipo un ringraziamento per i privati, le aziende che hanno deciso di contribuire all'illuminare Vicenza, e anche i commercianti, con Confcommercio stiamo lavorando, uscirà questa settimana una lettera diretta ai commercianti, con la richiesta del contributo volontario di 100 euro, che è fondamentale per l'organizzazione del Natale. E a proposito di grandi classici? Avremo anche l'albero in Piazza dei Signori, più sempre con i fornitori stiamo ragionando di prendere 4-5 piccoli alberi da destinare a qualche piazza del centro, ma magari chissà, non solo centro storico. Il cuore pulsante di questo Natale, infatti, tutta la città, a partire dalle periferie. Nei quartieri abbiamo deciso quest'anno di aumentare il budget per le periferie, e quindi raddoppieremo il numero di attraversamenti, anche per illuminare giustamente le periferie, non solo il centro storico. Nuove geografie anche per gli stand che saranno previsti nel fine settimana in alcune piazze della città e per le casette di Natale. Prevediamo anche in quest'anno la presenza di alcune casette di Natale, che però saranno dislocate in una parte diversa rispetto agli anni precedenti, quindi prenderanno Piazza Biade e si estenderanno verso il corso, nella parte finale, verso Piazza Matteotti. Grazie. Grazie. Grazie.